quarta lezione di scratch ho già eseguito l'accesso clicco subito su crea per iniziare un nuovo progetto in questo progetto non useremo il gatto quindi eliminiamolo diamo subito il titolo giga e pico al nostro progetto e salviamolo scegliamo gli sprite nella categoria fantasia scegliamo gigawalking e inseriamolo e appoggiamolo qui ancora nella categoria fantasia scegliamo pico walking poi poiché il nostro progetto sarà ambientato nello spazio scriviamo ship nella barra di ricerca e selezioniamo quest'astronave scegliamo adesso gli sfondi sempre perché il nostro progetto sarà ambientato nello spazio scriviamo space nella barra di ricerca e scegliamo lo sfondo space poi ripetiamo e scegliamo lo sfondo space city 2 la storia che vogliamo raccontare è quella di giga che vive nel pianeta dello sfondo space che viaggiando sulla sua astronave raggiunge picco che vive sul pianeta dello sfondo space city 2 iniziamo a programmare passando alla scheda codice selezioniamo lo sprite gigawalking e stabiliamo che quando si avvia il programma cliccando sulla bandierina verde lo sfondo passi a space e che questo sprite venga mostrato selezioniamo poi l'astronave e anche in questo caso programmiamo che venga mostrata all'avvio del programma non c'è bisogno invece di riselezionare lo sfondo perché lo abbiamo già fatto nella programmazione di giga infine passiamo a pico nel suo caso non vogliamo che si veda all'avvio del programma perché sta su un altro pianeta quindi selezioniamo nascondi lo vedremo in seguito proviamo a vedere se tutto funziona e come avevamo stabilito è apparso lo sfondo space sono visibili giga e l'astronave mentre pico è nascosto torniamo all'astronave e notiamo che ha i motori accesi andiamo quindi a vedere di che costumi dispone ne ha diversi ma vorrei che all'inizio assumesse quello con i motori spenti e cioè il costume e torniamo quindi a codice e aggiungiamo il blocco passa a costume e la sua posizione iniziale dovrebbe essere più o meno questa e poiché deve sembrare lontana vorrei che la sua dimensione fosse ridotta del 50 per cento sistema un po il posizionamento e continuo ad aggiungere i blocchi quello di porta dimensione a che aggiorno al 50 per cento e quello vai a che ha rotondo a x 110 e y meno 30 ritorniamo alla programmazione di giga questo sprite invece vorrei che all'inizio fosse più grande per esempio il 150 per cento e che fosse posizionato in basso a sinistra nella cartella aspetto scelgo quindi porta la dimensione al e digito 150 per cento mentre nella cartella movimento seleziono vai a e aggiorno con x meno 120 e y meno 100 andiamo ora a vedere i costumi di gigawalking e vediamo che ne ha tre stabiliamo che all'avvio del programma indossi il numero 1 scegliamo quindi il blocco giusto e selezioniamo il costume gigawalk 1 prima di continuare ricapitoliamo le condizioni iniziali del nostro programma per quanto riguarda gigawalking abbiamo programmato che quando clicco sulla bandierina si passi allo sfondo space cioè questo poi questo sprite cioè giga deve essere mostrato e la sua dimensione deve essere portata al 150 per cento deve essere collocato a queste coordinate x e y e deve indossare il costume numero 1 lo sprite pico deve essere invece nascosto e lo sprite astronave deve essere mostrato indossare il costume e ridotto al 50 per cento e collocato a queste coordinate x e y non proseguiamo con la programmazione specifico che in questa esercitazione ci occuperemo solo dei movimenti e di come fare in modo che avvengano proprio quando lo desideriamo mentre nella prossima lezione aggiungeremo anche fumetti voci e suoni torniamo da giga e facciamola salire sull'astronave in modo che possa raggiungere pico sull'altro pianeta per prima cosa aggiungiamo un blocco a te di un secondo per far iniziare le sue azioni un secondo dopo aver avviato con la bandierina il programma sappiamo che per far camminare lo sprite dobbiamo aggiungere un blocco di ripetizione collochiamolo e inseriamo al suo interno come già sappiamo fare passa al costume seguente e attendi correggendolo stavolta con 0.1 secondi ora dobbiamo inserire un blocco di movimento che mi faccia percorrere questo tragitto inclinato fino all'astronave ma finora avevamo imparato a percorrere solo tratti orizzontali infatti se inserisco il blocco fai 10 passi e provo vedrò che giga si muove in direzione orizzontale cioè 90 gradi quindi questo blocco non va bene l'oggetto via per farla muovere in diagonale ho diverse possibilità vi spiego la prima osserviamo questi due blocchi cambia x di 10 e cambia y di 10 essi ci permettono di cambiare una sola coordinata alla volta ragionando capisco che per effettuare questa traiettoria leggermente inclinata possa aumentare il valore della x e della y separatamente un po di più la x un po di meno la y e poi ripeterlo più volte aggiungo quindi due blocchi nel blocco di ripetizione e lascio il cambio della x a 10 e modifico quello della y a 2 un po meno come avevo detto aumento anche le ripetizioni a 20 e poi provo stavolta la traiettoria di giga è leggermente inclinata come volevamo il problema è che è troppo grande mentre si allontana dovrebbe ribicciolirsi possiamo usare il blocco cambia dimensione che se ricordate in un video precedente vi avevo detto di non confondere con porta dimensione a anche questo nuovo blocco ci permetterà di variare la dimensione ma un po per volta scrivendo un numero positivo ad esempio 10 aumenterà di 10 pixel alla volta scrivendo un numero negativo diminuirà noi scriveremo meno 7 perché l'ho già provato ed è quello che diminuirà le dimensioni di giga proprio come ci occorrono proviamo vediamo quindi giga percorrere il suo tragitto inclinato e diminuire la sua dimensione man mano che si allontana programmiamo adesso lo sprite perché salga sull'astronave giga dovrà arrivare più o meno in questo punto andiamo a cercare le coordinate giuste nella programmazione dell'astronave e vediamo che esse sono x 110 e y meno 30 torniamo nella programmazione di giga useremo il blocco scivola in un secondo correggendolo con le coordinate x 110 e y meno 30 proviamo notiamo che lo sprite ha raggiunto il punto desiderato ma è fuori dall'astronave per far sì che sembri invece essere dentro dobbiamo portare davanti l'astronave in modo che giga venga coperta da essa torniamo quindi nella programmazione dell'astronave e nella cartella aspetto scegliamo vai in primo piano selezionando proprio questa opzione tra le due disponibili provando ancora possiamo verificare che stavolta giga sparisce all'interno dell'astronave ed è arrivato il momento del decollo ma come faccio a comunicare all'astronave qual è il momento esatto in cui decollare potrei contare tutti i secondi che occorrono a giga per arrivare fin qui ma questo può funzionare per un programma molto breve come questo sicuramente non per programmi più lunghi nei quali non riuscirei ad essere precisa esistono però dei blocchi che mi permettono di inviare un messaggio agli sprite per comunicare loro quando è il momento esatto di fare una determinata azione torna alla programmazione di giga perché lei che dovrà inviare il messaggio per il decollo una volta arrivata dentro l'astronave dalla cartella situazioni prelevo il blocco invia a tutti messaggio 1 posso creare quanti messaggi voglio quindi conviene nominarli in modo da riconoscerli questo primo messaggio lo chiamerò partenza nel blocco vedo che ora c'è scritto proprio invia tutti partenza torniamo nella programmazione dell'astronave e facciamo in modo che essa riceva questo messaggio e decolli dobbiamo aggiungere un nuovo blocco situazioni cioè quando ricevo partenza per quanto riguarda il decollo vorrei che non avvenisse in verticale ma inclinato di 45 gradi in questa direzione impariamo dunque un secondo modo per far percorrere agli sprite una traiettoria obliqua inseriamo prima però un blocco attende un secondo giusto per separare di un attimo l'arrivo di giga dalla partenza dell'astronave programmiamo la traiettoria obliqua in questo modo aggiungiamo il blocco punta in direzione e correggiamolo a meno 45 gradi non dimentichiamo il blocco usa stile rotazione sinistra destra per evitare che la nostra astronave finisca sottosopra aggiungiamo quindi il blocco di ripetizione e collochiamo al suo interno passa al costume seguente perché voglio utilizzare tutti i costumi dell'astronave stavolta possiamo usare il blocco fai 10 passi perché avendo impostato già la direzione a 45 gradi basterà questo per avere la traiettoria obliqua e non fornire le coordinate x e y come abbiamo fatto con giga inseriamo infine il blocco attendi che correggeremo a 0.1 secondi aumentiamo le ripetizioni da 10 a 30 perché insufficienti e cliccando su questa serie di blocchi proviamo solo questa programmazione l'astronave è partita con successo ma notiamo subito che c'è un piccolo problema giga è rimasta a terra per risolvere questo problema non occorre che programmiamo anche giga perché compia lo stesso tragitto dell'astronave basterà nasconderla prima della partenza la faremo riapparire quando sarà il momento torniamo quindi alla programmazione di giga e stabiliamo che scompaia un attimo prima di inviare il messaggio di partenza quando è già coperta dietro l'astronave quindi in questo punto inseriamo il blocco nascondi clicchiamo sulla bandierina e proviamo il programma dall'inizio stavolta giga non è rimasta a terra per completare la partenza vorrei che scomparisse anche quest'ultimo pezzettino di astronave quindi tornando nella sua programmazione inseriamo come ultimo blocco nascondi e provando ancora accelerando un po vedremo l'astronave scomparire del tutto è arrivato il momento di cambiare pianeta e quindi sfondo al nostro stage clicchiamo sullo sfondo attuale in basso a destra e poi in alto a sinistra su sfondi il secondo pianeta è quello dello sfondo space city 2 quindi tornando al codice dell'astronave stabiliamo che una volta decollata e nascosta si passi proprio allo sfondo space city 2 controlliamo e vedremo che accadrà proprio quello che abbiamo programmato ora che siamo sul suo pianeta facciamo finalmente comparire pico selezioniamo quindi il suo sprite ritroviamo la sua programmazione che finora era soltanto nascondi e inseriamo un nuovo blocco situazioni e cioè quando si passa allo sfondo e selezioniamo lo sfondo space city 2 quando si passa a questo sfondo vogliamo che pico appaia quindi aggiungiamo il blocco mostra e cliccando su questo gruppo di blocchi vedremo chi comparirà copriamo i costumi di pico e stabiliamo che quando è fermo indossi il costume numero 3 aggiungo quindi il blocco con il costume giusto la dimensione sarà 100 per cento la posizione più o meno qui quindi inserisco il blocco vai a ea rotondo ax 100 y meno 80 la direzione voglio che sia invece opposta a quella attuale quindi come ormai sappiamo fare inserisco il blocco punta in direzione meno 90 e usa stile rotazione sinistra destra provo e verifico che sia tutto ok ora dobbiamo inviare un messaggio a giga che le dica che è il momento di mostrarsi aggiungiamo quindi alla programmazione di pico il blocco invia a tutti e creiamo un nuovo messaggio che chiameremo incontro torniamo da giga creiamo un po di spazio per continuare a programmare e aggiungiamo un nuovo blocco situazioni cioè quando ricevo incontro e aggiungiamo anche mostra perché a questo punto giga è arrivata sul pianeta se però clicchiamo su questi due blocchi vediamo che giga appare alle stesse coordinate in cui era scomparsa nel quadro precedente trasportiamola in questo punto dello stage dove supponiamo che sia atterrata e aggiungiamo il blocco vai a inserendo le coordinate attuali leggermente arrodondate con x meno 160 e y meno 60 anche stavolta giga si muoverà lungo una traiettoria obliqua per raggiungere pico aggiungiamo come ormai ben sappiamo un blocco di ripetizione nel quale collocheremo i due blocchi cambia x di e cambia y di che già conosciamo ragionando un po sulla traiettoria e facendo delle prove che magari potete ripetere ho capito che il valore della x doveva cambiare di 10 pixel e quello della y di meno 5 aggiungiamo anche il blocco passa a costume seguente e poiché giga deve ingrandirsi man mano che si avvicina anche il blocco cambia dimensione di 10 infine il solito blocco attendi corretto a 0.1 secondi e fuori dal blocco ripeti passa al costume giga walk 1 cioè quello che voglio che giga assuma quando arriva davanti a pico proviamo questa serie di blocchi per vedere se è tutto ok e poi cliccando sulla bandierina rivediamo tutta la programmazione realizzata finora il compito per la prossima volta sarà quello di completare perfettamente questo esercizio perché da qui ripartiremo per aggiungere effetti sonori voci e musica di sottofondo ricordate inoltre di salvare il progetto condividerlo e aggiungerlo alla galleria 03 giga e pico buon lavoro e alla prossima lezione